I precedenti vincitori del premio includono diversi ex presidenti degli Stati Uniti, Meghan Markle e il principe Harry saranno onorati in una scintillante cerimonia di premiazione il mese prossimo per la loro azione eroica contro le autorità della famiglia reale. Il 6 dicembre il duca e la duchessa di Sussex riceveranno il Robert F. Kennedy Ripple of Award, ideato per lodare il lavoro di leader esemplari, Kerry Kennedy, che dirige la Robert F. Kennedy Foundation ed è la nipote del defunto presidente John F. Kennedy, ha dichiarato al quotidiano spagnolo. Il Confidential, sono andati nella più antica istituzione della storia del Regno Unito e hanno detto loro cosa stavano facendo di sbagliato, che non potevano avere un razzismo strutturale o all'interno dell'istituzione, che non potevano mantenere un malinteso sulla salute mentale. Sapevano che se lo avessero fatto ci sarebbero state conseguenze, che sarebbero stati ostracizzati, avrebbero perso la loro famiglia, la loro posizione o all'interno di questa struttura e che le persone li avrebbero incolpati per questo. L'hanno fatto comunque perché credevano di non poter vivere con se stessi se non mettevano in discussione questa autorità. Penso che siano stati eroici nel compiere questo passo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.